Piero, nelle spie non sentiamo niente 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 stessi gazette. Con questo concludo, vi ricordiamo che la Palermo Reale è questa, vi invitiamo alla lotta sociale e lasciamo il palco agli aria. Grazie a tutti. 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 Tutto bianco. Grazie a tutti. 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 Facciamo l'ultimo pezzo che si chiama Addomesticato. Ah non, la canzone di Viceo. Questa vi riporta domani mattina quando mangiamo... Addomesticato. Addomesticato. A presto 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 A presto